Si fa un gran parlare del mess e allora mi sembra utile dedicare un paio di video all'argomento. Ecco il primo. Cosa sia il mess? Penso che lo sappiate tutti. Sono però convinto che non si debba mai dare nulla per scontato e sia buona cosa non solo ricordare cosa sia il mess ma soprattutto quale sia la pericolosità di questo strumento. Come noto il mess non ha precedenti e non esiste un simile strumento in nessun'altra parte del mondo. Il mess quindi è un unicum. E allora partiamo proprio dal significato di questo acronimo. L'acronimo mess sta per meccanismo europeo di stabilità. Concordo con voi anche conoscendo il significato dell'acronimo, ossia meccanismo europeo di stabilità, non si riesce a capire di che cosa si tratti. Cos'è? È un meccanismo che dà stabilità all'Europa. Esisterebbe quindi un meccanismo in grado di dare stabilità all'Europa? No dai, usciamo dall'equivoco. Anche se dal nome non si direbbe. Il meccanismo europeo di stabilità è un fondo. Un fondo creato attraverso dei versamenti effettuati dai paesi europei aderenti all'Euro. Verrebbe da chiedersi, ma perché non lo hanno chiamato fondo? Non lo so, ipotizzo che forse il termine fondo è quasi volgare e quindi hanno preferito un meccanismo che è certamente più nobile. Ma non solo. Il termine stabilità è un termine estremamente generico. A quale tipo di stabilità ci stiamo riferendo? Ebbene, anche se non viene specificata espressamente, possiamo dire con certezza che stiamo riferendo alla stabilità finanziaria. Tuttavia, insomma, lasciamo perdere queste disquisizioni e cerchiamo innanzitutto di capire perché il MES è un'esclusiva dell'Eurozona. In altre parole, perché non esiste da nessun'altra parte al mondo? Ebbene, non esiste in nessun'altra parte al mondo, perché non è necessario istituire un fondo per garantire la stabilità finanziaria. A questo scopo è deputata la Banca Centrale. Beh, ma anche noi abbiamo una Banca Centrale, cioè la BCE. E allora perché abbiamo bisogno del MES? Semplicemente perché la nostra Banca Centrale, la BCE, non è una vera e propria Banca Centrale. O meglio, nel suo statuto, non ha alcune prerogative tipiche delle banche centrali. Come suol dirsi, diciamo, la BCE è una banca centrale zoppa. Oddio, perché? Semplicemente perché è la banca centrale di venti stati diversi. Non è la banca centrale di un solo stato, ma di venti stati diversi. E questi stati sono fra di loro anche concorrenti. Quindi, ad esempio, nessuno stato vuole pagare i debiti contratti da un altro stato. In effetti, non dovremmo nemmeno chiamarla Unione Europea, semplicemente perché non è un'unione. Dovremmo al massimo definirla una comunità, ossia un gruppo di stati diversi che hanno stipulato fra di loro accordi di diverso tipo. Ma torniamo alla BCE, che, appunto, nonostante la denominazione, non è una banca centrale. Non può definirsi, diciamola così, non può definirsi una banca centrale. E ora spiego anche il perché. Fra le caratteristiche delle banche centrali ve n'è una essenziale. E qui, purtroppo, devo utilizzare il linguaggio tecnico. Si dice, infatti, che la banca centrale sia prestatrice di ultima istanza. Ora spiego cosa significa. Come si finanzia uno stato? Questo, naturalmente, lo sapete tutti, emettendo titoli dello Stato. Titoli del debito pubblico, che vengono sottoscritti da diversi investitori. Quindi, gli investitori versano i soldi in cambio di titoli dello Stato. Lo Stato utilizza quei soldi per i motivi più disparati e si impegna, naturalmente, a restituirli alla scadenza dei titoli agli investitori, riconoscendo loro, ovviamente, anche degli interessi. Ma, qualora non si trovino investitori che intendano sottoscrivere quei titoli, ossia acquistarli, insomma, cosa accade? Oddio, verrebbe da dire niente, lo Stato farà a meno di indebitarsi. Certo, fosse facile, insomma. Ma se lo Stato, con quei soldi, deve pagare stipendi ai dipendenti pubblici, deve pagare pensioni, non è che possa dire ai dipendenti pubblici e ai pensionati, guardate che, dato che ho, insomma, non ho trovato degli investitori per i miei titoli, non posso pagarvi lo stipendio o la pensione. Insomma, quei soldi sono assolutamente necessari allo Stato. E quindi, e quindi il Presidente del Consiglio, o meglio, il Ministro del Tesoro, si reca dal Governatore della Banca Centrale e gli dice «Caro Governatore, tu che puoi emettere moneta, ti prego, emetti moneta e con quella moneta acquista i miei titoli dello Stato perché ne ho assolutamente bisogno, devo pagare stipendi e pensioni». Ed il Governatore della Banca Centrale, che è una persona indipendente dalla politica, ma che ha fra i suoi compiti, insomma, anche quello di supportare la stabilità finanziaria del proprio Paese, cosa fa? Emette della moneta con la quale acquista i titoli dello Stato. E così il Ministro del Tesoro potrà pagare gli stipendi ai suoi dipendenti e le pensioni. per questo la Banca Centrale si caratterizza come prestatore di ultima istanza, ossia finanzia lo Stato quando nessun altro è disposto a farlo, evitando così, naturalmente, di far fallire lo Stato. Ebbene, alla BCE non è stata concessa la possibilità di agire come prestatrice di ultima istanza. E per quale motivo? Ma il motivo è semplice, no? La BCE non è altro che l'insieme delle 20 diverse banche centrali nazionali. quindi se la BCE agisse come prestatrice di ultima istanza a favore di un determinato Paese acquistando, ovviamente, i suoi titoli del debito pubblico di fatto sarebbero gli altri Paesi a finanziare quell'operazione e a nessuno piace finanziare i debiti degli altri se non, naturalmente, con adeguate garanzie. Ebbene, mi direte, ma tutto ciò accade perché esiste la BCE, ma le banche centrali nazionali non sono scomparse. Quindi, uno Stato potrebbe dire, ma, cara BCE, non vuoi, o meglio, non puoi agire come prestatrice di ultima istanza. Allora, sai che ti dico? Io esco dall'euro, ho ancora la mia banca centrali, e nazionale e lei mi garantirà il mio debito pubblico visto che potrà operare come prestatrice di ultima istanza. Va bene, qui mi fermo. La seconda parte del video a brevissimo.